Nato dall'espressionismo astratto alla fine degli anni 50, l'azionismo austriaco è certamente stato il movimento artistico, pseudo-artistico di fama più scandalosa. Gestualità, anarchia esecutiva, dripping, splatter painting, sangue ed escrementi usati come colori e soprattutto corpi umani profanati nella loro dignità con mutilazioni, prove di resistenza fisica e psicologica, mortificazioni genitali e quant'altro, i lodevoli paradigmi per accedere. Patologicamente, secondo gli estimatori, al non meno patologico e fantasmagorico subconscio, attraverso una sorta di frenesia artistica ossessivo-compulsiva da atlante di medicina legale. La psicanalisi, disgraziatamente, ha generato lungo tutto il Novecento schiere piroettanti di imbelli farneticanti. Anche i surrealisti si ispirarono all'opera del signor Freud e all'epoca non furono certo meno scandalosi degli azionisti, dei quali, tra l'altro, profilarono in nuce ogni tematica rappresentativa, sia iconograficamente che cinematograficamente. Si pensi ad un Dalì o ad un Buñuel, con la differenza che questi artisti, il termine per loro non è improprio, conservarono un'estetica e rappresentarono intelligentemente i loro contenuti supportati da un apparato teorico-concettuale culturalmente rispettabile, al di là delle volontà meramente scandalistiche protese a sgretolare, certo insipido e posticcio, perbenismo borghese. Nell'azionismo il corpo funge da vero e proprio supporto performativo, consente pitture, incisioni, torture, omiliazioni, con l'intento dichiarato di liberare ogni sorta di emozione rimossa, ma guarda caso sono solo d'ascendenza bestiale e negativa, manipolando l'involucro dentro cui sarebbero ascritte. Per quanto riguarda gli azionisti visionati nella giornata di ieri al Pacifico di Sulmona, Ottomull, Günther Bruce, Wally Export, le pellicole, firmate anche da Kurt Krenn, Ernst Schmidt e Rudolf Schwarzkogler, illustrano lo sperimentalismo austriaco degli anni Sessanta. A volte un sorriso interviene a rompere la generale indifferenza dello spettatore, si parla ovviamente di quello meno sprovveduto. Il tentativo di mascherare inettitudine e patologie personali munendo simili rappresentazioni di simboli e teoresi fallisce miseramente. I continui rimandi al teatro della crudeltà di Antonin Artaud non ricordano il pensiero di Antonin Artaud. Una sola tela di Francis Bacon credo basti a contenere in maniera sublime tutta la carnalità di cui gli azionisti favoleggiano. Gli antichi romani, forse nelle loro arene, furono inconsapevolmente i veri antesignani di un teatro della crudeltà. Ieri il cinema non era quella particolare forma e condizione artistica che lo spettatore fruisce, ma solo un luogo fisico di velluto e mattoni, non meno piatto e indifferente della scrivania su cui scrivo.